Il presidente di Aceri, d'Italia Holding SPI e della società DRI Italia, Franco Bernabè, nella giornata del 11 febbraio ha incontrato a Taranto il sindaco e presidente della provincia, Rinaldo Melucci, e collegato da remoto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, per illustrare il piano di decarbonizzazione dell'Exilva. A tale scopo è stata creata la società DRI Italia, società interamente controllata da Invitalia. Il 31 gennaio scorso lo stesso Bernabè ha parlato del piano alla Commissione Industria del Senato in vista della conversione in legge dell'ultimo decreto che riguarda gli impianti ritenuti strategici. All'incontro, a quanto si è appreso, ha partecipato anche Stefano Cao del Consiglio di Amministrazione di DRI Italia, il commissario straordinario della zessionica Floriana Gallucci, e il presidente dell'autorità di sistema portuale della Marioni, o Sergio Preten. Nell'ambito della vertenza Exilva, comune di Taranto e Regione Puglia, hanno proposto da tempo un accordo di programma, ma di questo non si sarebbe discusso nel corso del confronto. Il valore degli investimenti del piano di decarbonizzazione già esposto da Bernabè nei giorni scorsi di 5,6 miliardi prevede quattro fasi. La prima intende migliorare la sostenibilità dell'aria caldo con uso del DRI. La seconda punta alla creazione del primo forno elettrico alimentato a idrogeno e cattura di CO2. La terza, l'estensione dell'elettrificazione dell'aria caldo con un secondo forno elettrico. La quarta è il passaggio a soli forni elettrici alimentati prima a gas naturale, poi con idrogeno verde.